salve a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video sul canale del critico oggi nuovo episodio del blog dei blog della serie blog sul campionato della sambo nuovo appuntamento con una partita in casa oggi avremo sam matese per continuare alla striscia di vittoria mantenere il primato in classifica adesso sono le ore 12 e 55 la partita inizierà le 14 e 30 quindi dopo un pranzetto sostanzioso ci prendiamo il caffè la tazzina natalizia siamo quasi a tema e poi si parte oggi avrò anche il piacere di avere un mio amico allo stadio con me oltre al solito criticum senior il mio papà quindi siamo pronti per andare tra poco si va ci vediamo allo stadio allora raga siamo davanti allo stadio stavolta lo faccio prima perché siamo un po in ritardo quindi potrebbero essere già partite le canzoni e dopo mi bloccano il video ecco oggi c'è anche lui con me ospite speciale oggi si va a vedere questa partita insieme vediamo vediamo speriamo bene il numero Quei numero 9 Simone Tossi, quei numero 10 Danilo Alessandro, quei numero 11 Nazoreno Bautista, quei numero 14 Cristian Barberini, quei numero 15 Alessandro Zaboretti, quei numero 23 Capitano Alex Sirri, Quei numero 77 Carin Calconi, a la torre Mister Maurizio Lauro Dumbres, Dumbres Dumbres, Dumbres, Rossi E professionally, Make Abre vai battista lotta la nostra, dai, dai, dai giochi, dai la nostra, dai, dai, dai donna che sto imbarazzando ragazzi bravoまあ dai, fou poleg Fast playoffs gos bump la linea va questo quando crossa, crossa sempre forte ma che è? dai 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 ma che è ma che è ma che è ma vanga all'oratorio come cazzo l'ha battuto su angolo guarda questo libero di qua guarda non male su roche qua te la male tira uh uh gli ha levato oh uno che si propone grande vuoi suttare pure la scarpa mi sarà levata mi si toglie la scarpa vuoi suttare pure la scarpa mi sarà levata domacini domacini fine primo tempo 1 a 0 per noi decide finora domacini domacini Grazie. Andiamo in contropiede, andiamo in contropiede. Oh, dai, dai, mettila meglio. Cazzo. E che cazzo, sembra solo portiere, si pallò. Dai, nè 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 nè, dai. Dai, non mi scherzi mai. Calcio di rigore, calcio di rigore! Oddio, è rosso! Rosso, rosso! No, giallo. No, no, rosso, è rosso. Giallo, giallo. Giallo, giallo, giallo. È da rosso. Cosa è giallo? Dai ci sono giallo. Mi sa che tira sbardella. Arrigoni, Arrigoni! Arrigoni, Arrigoni! Sì, sì, sì. Dai, eh! Per piacere! Sì, sì! Mettiamo al sicuro il risultato, su! Sì! 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 Ehh! Che aveva amasso! significant. E qui non sei assiccato Andrea Arrigoni! Andrea! Arrigoni! Andrea! Arrigoni! Andrea! Arrigoni! Arrigoni! Vai, 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 vai! Dai, 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 dai! Bella palla, merda! No, no, eh, eh! Ma per una partita, qui stiamo a fare un balletto! No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' stata punizione quella, eh. A parte che Battista è stracco, devo uscire. Inoltre devo uscire. Dai, dai, dai che sbaglio, dai che sbaglio. Dai, 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 dai. Dai, dai, prova, prova. Ecco. Prende! Vai, Paolino! Che bella azione, ragazzi! Che bella azione! Che bella azione! Che bella azione! Ha segnato Paolino! E' un bel civico di dietro. E' un bel di destra, tirato. E' un banchetto di suono. E' un bel di destra. Ancora sempre! Ha segnato il Based Marco Paglieri! Magliari! 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 Forza Samba! Ale! 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 Come rigore? Come rigore? Fuoriare! Come fai essa rigore? Come fai essa rigore? Schiamo! eeeh, dai! prendiamo scena prendila, spiega non, non vedi oh, non vedi eeeh dai, basta, poni fine alle loro sofferenze su, fischia questa fine non fischiare eh non. bambina, brava pia ma dai, è fischia, ma stai a sottotitz vada è fischia vado eeeh Eeeh, grandi! Allora, allora, considerazioni, com'è andata? Vabbè, la Matese non c'era niente, la Samba ha fatto una bella partita, la sua bella partita, ha giocato bene, ha fatto delle belle trame, dei gol, soddisfattissimo, perfetto, è soddisfatto, lei? Ti vedo la domanda? Cosa ne pensa? Partita vinta in scioltezza, 3-0, rischiato poco, e tutti a casa, se può tornare nella serie che merita, l'anno prossimo, non ci darà l'interprete, lo dico, quadriangolare, Samb, Ascoli, Pescara e Ancona, vado, quadriangolare delle meraviglie proprio, e va bene, ragazzi, ricordatevi queste parole, vabbè, comunque ribadiamo, 3-0, 3, Samba 3, Matese 0, e tutti a casa, alla prossima con la trasferta di Chieti. Eccoci, eccoci, tutto a posto, sono arrivato pure oggi a casa, e niente, è andata bene, è andata bene, una bella vittoria per 3-0, il Chieti riesce a battere il Riccione, rimonta 2-1, quindi si mantiene invariata la distanza tra prima e seconda, domenica prossima sarà una sfida molto aperta, perché si va proprio in casa del Chieti, vedremo, sarà uno scontro diretto per provare ad allungare da parte nostra il vantaggio, speriamo di riuscirci, è tutto, quindi raga, io vi mando un saluto, e vi do appuntamento in un prossimo video, sempre qui sul canale del Critico, nuovo giorno, nuovo video, nuovo giorno, nuova critica, vi aspetto nei commenti per parlare di questa vittoria della Samb, e un saluto, ciao raga!